E' un'altra questione di chiedere di dispensa o di chiedere di perdonare pubblicamente. E' un'altra questione che la Corte Civil ha fatto il governo che non ha un atto corretto nel caso di tiramento di due anni passato nel terreno di Renaissance Marketplace. La Corte ha deciso di capire che la vittima non ha chiedere di perdonare e di pregiungere, ma un altro Corte lo mostrerà a attendere che la vittima non ha chiedere il sumo che è giusto. La Corte Civil ha fatto una decisione in cui il governo ha fatto un informe con un asesino e due sospechoso che non si tratta di armare. Il governo avisa di avere comprensione per la decisione che non è un governo opportune, ma un Corte imparciale. E' un'altra libertà completa con le mani di Corte e dal momento che viene una discussione di un'altra cosa che è un'altra cosa che non è un'assunto civile, ma non è come l'avisa di lavorare, è ora è lo uno assunto con il nostro abogato, non è presente, con il nostro abogato, non è presente, per propor, sì, è caso. La notazione è che a noi come al governo, ma si può avere qualcosa di direttore di vista nel momento che c'è un'altra procedura civile. Se c'è un'altra procedura civile, la nostra persona è presente, è un'altra scena, è un'altra cosa che è un'altra cosa che c'è un'altra cosa che dà non è che c'è un'altra cosa, un handello, un armato handello di un'altra persona che sia il suo diritto di presentare la Corte. E' vero che il ministro pubblico ha avaluato entro i casi penali che non ha il motivo per perseguire la polizia. Bisogna che è una procedura civile che si separa e non necessariamente ha avuto una procedura penal. Voi portare che penalmente non è nulla, però civilmente sì. Il governo non ha la libertà per cercare nessun sac, ma se ha lo visto, perché non è nulla, che non ha avuto una cosa, non ha avuto. E' per cominciare la Corte per determinar qual cosa è avuto e, in un altro caso, se è caso, quello che mi ha avuto, visto che non ha avuto una cosa, non ha avuto una cosa, perché non ha avuto un sacco, è dipendere da stati, da tutta una decisione di BCI, ma so che si tratta di una suma grande, da stati, da tutta una decisione. Il governo non arriva su un mese, non può essere da nessun caso grande con nessun riente, e se è da una Corte con la Stata. E' mandato è confermato e ha riunito varie soccioni con famiglie di vittimane e ha spiegato non con il sistema di incadere in otro. Non da bocca per la justizia e avviso di lo che va a vedere in Corte internazionale se è necessario. La prima cosa è che la Corte è della Nacra, la Corte della Corte della Direccia del Humano, però nel nostro sistema è procedura sempre come se è per un Corte locale, come se è un caso di un Corte di Direccia del Humano, non si può entrare in Corte, se non si può entrare in Corte, non si può entrare in Corte, ma è procedura possibile, se è una Corte di Direccia del Humano, se è un libertà di alquadro, la persona non ha avuto la sentita, e non ha avuto la sguota di Dereccia del Stato, non ha avuto la sia per la sua protezione, da e corte di nostri paesi messo amita patrick pascal pa a tv canale 5 come erano di sicco lei ti insomma namara però ta impidico e ministeri messi di su sorrivo un possibile dai perjuicio sia parlamento da dunia e ormai of a famiglia da bai corte e questa determina chi con andai uta e se lo ha si è processo molto più facile